L'aula è sempre questa, la 7, però sono cambiati i protagonisti Giacomo Ebner e Ivano De Matteo. Siamo qui per Giacomo spiegare innanzitutto il simbolo, il logo che avete scelto per questa giornata dedicata alla legalità. Abbiamo scelto il logo con lo stormo, per dire ai ragazzi di abbandonare il branco, che segue un solo capo, ma di essere compagni uno dell'altro, quindi questo è un po' il simbolo. E poi il titolo, portatori sani di legalità, perché infettare positivamente la società con la testimonianza quotidiana, perché questo ci teniamo, di non appaltare la legalità ai magistrati, agli eroi di turno, anche loro malgrado. Ma di stimolare quotidianamente il proprio impegno nella sua legalità. Mentre noi siamo qui con Giacomo, è in proiezione il film di Ivano De Matteo, dopo andremo a dibattere con i ragazzi, perché naturalmente qui i protagonisti sono loro, come lo sono anche nel tuo film. E com'era questa stanza dove stiamo facendo l'intervista, che era proprio la stanza dove ho girato, dove Gassman era un avvocato, e quindi la parte clou del film è stata anche girata in questa stanza. E quindi è significativo per te? Il significativo più che altro no, questo era un piccolo aneddoto, il fatto significativo è che ci siano 800 ragazzi dentro un tribunale, come ospiti chiaramente, che siano comunque, che servano almeno come deterrente. Anche vedere già l'aspetto, come dire, la gabbia, il fatto che c'è un giudizio. Io mi auguro questo, anche perché nel mio film, come ripeto spesso, l'ho girato prima che come genitore, come regista, l'ho girato come genitore. Quindi è una paura, un terrore che ho dei tempi. Grazie. Un bellissimo film, detto ovviamente da noi in questa giornata, ma detto anche dalla critica, questo ha un valore altrettanto importante, ma saranno adesso i ragazzi oggi a decretare poi il vero successo. Tu come li leggi questi adolescenti di oggi? Parlando anche proprio da genitore, non soltanto da regista. Guarda, ti ripeto, avendo un figlio adolescente, quindi è questa, l'altro è più piccolino, ha otto anni, quindi ha un pochino di tempo, ma già vedendo lui appunto sono, diciamo, preoccupato. Non sono molto pessimista, però sono abbastanza preoccupato, trovo delle cose bizzarre che probabilmente frutto anche delle nuove tecnologie, di un modo diverso di comunicazione. Ci sono delle cose che io, a cavallo, diciamo, di quest'epoca, cioè rispetto a mio figlio che è un nativo digitale, io che vengo un pochino prima, le trovo, se non altro, non sbagliare, perché sarebbe un giudizio che probabilmente neanche un giudice potrebbe dare, però direi che sono delle cose molto bizzarre. Ecco, se dovessi dare nel mio film, io ho detto che se fossimo in un processo non sarebbe l'imputato principale, ma una condanna per favoreggiamento alle nuove tecnologie. Se fosse un giudizio, un giudizio gliel'avrei dato. Senti, nel tuo film sono dei ragazzi che appartengono ad una famiglia di un certo tipo, ma il rischio non lo corrono solo quei ragazzi, perché dal centro alla periferia i rischi sono i medesimi. Adesso c'è una promiscuità che mette paura, i gruppi che agiscono non è più una questione sociale. L'ultima cosa che è successa a Parioli erano quattro che giravano incappucciati, tre di periferia e l'altro è il figlio di un avvocato della Roma Bene. Questo è sempre esistito, anzi, uno vede l'altro come un errore, a qualcuno manca l'altra parte, sono le due stampelle che servono per camminare. Uno è attratto dalla parte, come dire, malandrina, delinquenziale, coatta e cattiva, e l'altro è attratto dalla parte bella, la Roma Bene, le ragazze carine. E' tutto un insieme, quindi ognuno ha quell'attrazione fatale, come c'è l'attrazione sulla delinquenza, sul male, sul romanzo criminale. C'è questa fascinazione, la fascinazione del carcere, gli odò, un conto il film, un conto il documentario, un conto quando la vivi davvero quella roba. Quindi io farei cadere un po' questo mito, io sono l'antimito, l'antieroe. L'eroe è quello che prende le parti a un ragazzo che viene aggredito dal gruppo. E' quello, è l'eroe il mio, è l'anti-eroe. E non dico che se non c'è, non devi essere grosso e attaccarlo fisicamente, ma perlomeno non foraggiare l'altro. Cioè non ridere se quello fa qualcosa. Fai un atto di bullismo, lui ti guarda perché cerca un pubblico. Se io non ti sorrido, non c'è pubblico e di conseguenza piano piano deve finire così. Ma quello che dicevo prima, sulle nuove tecnologie c'è questa, come dire, è tutto diventato l'esasperazione del protagonismo, di apparire, i like sui social network, quelli sono debiti morali. Cioè io te lo dò a te e poi tu me lo dai a me, è una masturbazione virtuale. E quindi io devo fare sempre di più. Capisci? Quindi se io non ti do like, se io ti dico che non mi piace, e quindi anche se lo vedo non ti posso attaccare fisicamente per difendere il ragazzino che viene, come dire, malmenato, viene comunque, subisce una sorta di bullismo, ma non virtuale, cioè sia quello virtuale che quello fisico. Se non altro, se non riesco ad aggredirti, a difenderlo fisicamente, comunque mi giro dall'altra parte. Tu mi cerchi col sorriso per dire guarda che bella cosa ho fatto, io dall'altra parte mi giro. Almeno quello, quello è l'anti-eroe per me. Bravo, e noi non possiamo che essere d'accordo con questa analisi, Ebner, però nel film accade che questi ragazzi vadano a malmenare un senzatetto, ma quali sono, diciamo, le tentazioni a cui sono più soggetti gli adolescenti, dal tuo punto di vista? Sono tanti poi, no? Cioè il bullismo, cioè quello che si sfoga su un senzatetto o contro un senzatetto, c'è quello che si sfoga su un rom, c'è quello che si sfoga contro un compagno di classe. Quali sono i rischi che corrono questi ragazzi, i rischi maggiori, dal tuo punto di vista? Il rischio maggiore è quello di imitare gli adulti. Infatti nel film, secondo me, è quello poi, tra me piace tantissimo il film perché ti lascia proprio uno squarcio sul fatto di essere adulti inquietante. Insomma, il finale è aperto, tra l'altro lascia varie interpretazioni, il regista ci ha dato alcune sorprendenti, diciamo la mia, è che sia stato il fratello. No, no, tu l'altra volta avevi detto... No, 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 è chiaro, siccome l'ho lasciato aperto, perché mi sembrava un atto di presunzione dire chi è stato, io da spettato, cioè, io dico che è stato il fratello, però potrebbe essere stata tranquillamente anche la moglie del fratello, oppure un incidente per quelli che vedono tutto positivo, voglio dire, c'è chi vede la vita, come dire, vuole essere più tranquillo e potrebbe essere stato uno scontro, però è chiaro che è stato lui. In quel film c'era proprio appunto lo switch dei personaggi, come noi pensiamo di essere buoni, ci appoggiamo a delle certezze che in realtà non... è un film anche sulle certezze incerte. Beh, certo, e non a caso gli adulti sono quelli che hanno queste finte certezze proprio, mi sembra. Esatto, le nostre finte certezze politiche, religiose, sociali, e cerchiamo sempre ad attaccare qualcuno, noi siamo i buoni, mi chiedo sempre, ma se siamo tutti buoni, ma chi sono i cattivi? Noi giudichiamo sempre, no? Tu faccio la parola, il giudizio, no? Noi abbiamo sia questo, diciamo, questo classico, come dire, formale, poi abbiamo il giudizio, quello quotidiano, quello, come dire, fisiologico. Noi giudichiamo sempre, tutti, continuamente. Ecco, questa cosa nel film è che ti porto a giù, c'è quasi una manipolazione psicologica del pubblico, ti porto a schierarti all'inizio del film, c'è la scena, diciamo, questa molto forte, alcuni ti schiereranno da una parte, altri dall'altra. Ecco, e c'hai una certezza, a un certo punto accade a te, quindi questo dramma non è più visto da comparsa, ma sei il protagonista, allora lì ecco che cambia tutto, cambia tutto nella vita. Avrei potuto chiamare doccia fredda a sto film. Ti arriva una telefonata e ti cambia la vita. È vero, è vero. E cadono tutte le impalcature, tutte queste sovrastrutture che spesso ci creiamo, giusto Ebner? Giusto, ma direi pure che, insegna pure come genitore, come fai sbagli, diciamo. Non l'hai, perché l'hanno provate tutte poi quei poveri genitori in realtà, perché... Ma poi anche, riprendendo il discorso del prima, appunto il genitore può educare, tu puoi educare quanto ti pare. A parte ci sono casi in cui la stessa famiglia educa due fratelli e quindi uno fa una cosa, anzi uno prende una strada, uno un'altra. Ma il punto è che credo si è entrato un altro educatore molto forte, il famoso imputato per favoreggimento, il web, dove è diventato il nuovo educatore. Cioè noi andiamo a cercare tutto, abbiamo delle malattie, abbiamo dei problemi, andiamo a cercare la risposta là, perché è buono, perché ci dice sempre sì, perché ciò che è no non lo guardiamo. È affascinante, no? È molto affascinante, è quasi come una droga, anzi io l'ho paragonato come... Farei un parallelo tra le nuove tecnologie e l'emissione della droga. Come no? Tutte danno osservazione. Danno osservazione, hanno momenti di aggressività, il meccanismo è quello. Se all'epoca è stata messa per, come dire, per addormentare un certo tipo di pensiero dei giovani, quindi non pensate vi addormentiamo, però all'epoca erano, diciamo, come dire, era molto l'impatto visivo dalla fastidio, perché comunque rubavano. Invece in questo li hanno messi proprio a dormire tutti quanti, quindi è questa rete sociale che li lega, in realtà si sono messi tutti alle resti domiciliari. Cioè quando mio figlio mi dice, papà posso avere il libro a casa, la musica a casa, agli amici a casa, ho detto, c'è gente che pagherebbe per uscire, state tutti chiusi dentro le vostre cellette bianche. Ci ammette paura. Che qual è sta rete sociale? Che rete è? Non è una rete sociale, perché c'ha dei buchi, si cade là dentro. A me mette paura che è una rete dove ci si può cadere, non è un tessuto sociale, è una rete. E quindi credo che ci sia proprio una ghettizzazione dei ragazzi, a me mette paura questa cosa. Questo mette un po' paura. Sentiamo Ebner? No, scherzosamente, dico che non scoppierà più una guerra, perché se la si sfideranno tutti con la Playstation direttamente, con loro con l'omonimo, omologo, turco, arabo, non usciranno più di casa, perché... Anche quello però potrebbe essere un aspetto abbastanza, abbastanza, sì, è vero, giustamente dici, scherzosamente che è inquietante. È inquietante, ma se vediamo come le nuove armi che si usano adesso sono molto vicine ai giochi... Certo, non a caso sparano col drone. E a volte chiamano dei ragazzini, quindi prendono lezioni da loro, perché sono molto bravi a usare quelle macchine. Va bene, allora ci sono tante tematiche tirate in ballo, adesso aspettiamo la fine della proiezione del film. Grazie, grazie Liberi TV.